Amici, dopo una cosa come 3-4 mesi, ma anche di più, siamo tornati su Brawl Stars per vedere un po' com'era la situazione perché non accedo da una vita. Non so se c'è una nuova stagione, non so se c'è un fine stagione, non so niente, nel dubbio voi se sapete cose nuove e cose incredibili scrivetemene nei commenti, ovviamente le andrò a leggere tutti, vi invito a cercare un mi piace, un commento, condividete il video e vediamo un po' che novità ci sono nel mio account e quanto soprattutto sono di livello basso. Iniziamo. Allora, come vedete, siamo su Brawl Stars con questo personaggino che non mi ricordavo assolutamente di avere e un background abbastanza interessante. Ho riscattato ste cose, vabbè, sapete meglio di me che cose... E andiamo nel negozio per vedere le novità. Allora, non c'è niente di incredibile, niente... Uh, c'è questa gratuita, gratis, mi piace. Punti energia per Bull, che non userò mai. Dai, non mi regalate niente? Non mi regalate niente. Prossimamente Jackie perfora tutto, è carino. Cosa sono ste robe in negozio stellare? E perché ce ne ho 300 io? Spendo i punti stellari nel negozio per acquistare articoli esclusivi. Ok, non so come si ottengono, scrivetemelo nei commenti. Dai, non mi regalano niente. Mmm, vabbè, niente, non ci ha regalato niente, purtroppo. Abbiamo 43 gemme, quindi facciamo schifo. E... uh, più 10 gemme, perfetto. Ora ne abbiamo 53 di gemme, yes. E una megacast... nooo, solo con il pass. Brock Super... ma guardate quante robe! Tra l'altro, fine stagione tra 40 giorni. Ok, ok. Perfetto, e quindi questo è il tutto. Sì, facciamo decisamente schifo. Però volevo usare questo per... qua al stop pass, con algino, in una modalità totalmente a caso. Questa inizia fra tre giorni, quindi no. Allora, perché me la mettono si inizia fra tre giorni? Vabbè. Dominio... mmm, cosa possiamo fare? Ci facciamo una raffa gemme classico? Ah, ci facciamo una raffa gemme e poi, in caso, andiamo a fare un'altra modalità. Boh, non lo so, signori. Comunque, nel dubbio, carina sembra questa stagione. Eia. No, dico, sembra carina questa stagione. Cos'è che faceva? Ah, carino, bello. Ah, lei era tra le mie preferite, tra l'altro. Quando è che ho sbloccato questa skin? Boh, vabbè, non lo so. Tra l'altro, mi ricordo che in un video precedente avevo fatto un mega chest opening stragrande. Avevo trovato un casino di robe. Avrò trovato anche questa skin, molto probabilmente. Nel dubbio, stiamo già vincendo 3-0. Non so, scrivetemi voi che novità ci sono. Non è un video in cui vi dico io le novità, perché non le so. Dato che a Brawl Stars ci gioco molto poco, in realtà, quanti, soprattutto, di voi, ci giocano ancora a Brawl Stars? Perché, in realtà, mica è uscito da, tipo, tantissimi anni. Ma, tipo, tanti... Vabbè, la ulti l'ho sprecata. Dicevo, è uscito da tantissimo tempo. E quindi, magari, c'è qualcuno che ha smesso, tipo, un Clash Royale. La Clash Royale, io mi ricordo, ci giocavo tantissimo. Però, ho smesso malamente. E, soprattutto, sto andando a cercarmi il fight. Ma, è un po' un errore, dato che sono da solo. Però, quasi, quasi, un altro colpettino. Perfetto, bravo, Master. E ora lanciamo la torrettina, lì di zona. Oh, oh, tizio. Prendi le gemme, oh. Prendi le gemme che vinciamo. Ultima. Bravo, scappa, 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 che ne hai tantissime. Scappa, che ne sei. Vabbè, sta partita, a mani basse, ma proprio talmente basse che non avete idea di quanto sono basse, la stiamo stradominando. Dai, questi qui non possono fare niente. Non possono fare niente. Attacca, attacca. Dai, due secondi, un secondo, e finita. Finita. Facile. E voi direte, eh, ma perché sei a livelli bassi? Sì, è vero. È vero. Perché sono a livelli bassissimi e quindi è molto facile. Guardate come sono tristi gli altri, tipo, brah, brah, brah. Strabella sta skin, mi piace un botto. Ah, è vero, ci sono anche le missioni. Eh, quanta roba. Gioca ancora? Dai, gioca ancora così, in caso. Ah, però mi sa che... Sapete che mi sa che non si possono più comprare le casse, bisogna sbloccarle. Vabbè. Nel dubbio ce ne facciamo un'altra. Faremo magari tre partite questo video, non lo so. Poi ci sblocchiamo qualcosa, sempre che riusciamo a sbloccare qualcosa. La squadra è quella di prima? Assolutamente no. Però vedo che sono belli i gagliardi. C'è un tipo nascosto, brah, brah. C'è un tipo nascosto, brah. Vabbè, ci penseranno i miei compagni. Guarda che cattiveria. No, 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 mi sta pushando. Amici, amici, amici. Bravo, bravo, bravo. Lasciami stare, lasciami stare. Ok, perfetto. Siamo 4 a 0, 5 a 0. Facciamo anche un 6 a 0 gioco. Facciamo anche un 6 a 0 gioco. No, niente. Sono lentissime a far spawnare le cose. Uh, quanto cattivo, quanto cattivo. Ma tra l'altro so che ci sono un casino di robe, tipo le robe stellari. Ho mai sentito. Boh, è pieno di robe stranissime che in caso mi dite voi nei commenti. Magari, come Mune, oh, che cosa significa che Mune. Magari ricomincio anche un po' a giocarci. Magari farò anche qualche video in cui gioco con voi. Non lo so, non si sa mai. Occhiolino, occhiolino. Nel dubbio, uccidiamo questi qua. Pensiamo a vincere. Dai, manca l'ultima gemma. L'ultima gemma la prendo io. Prendi e scappa, prendi e scappa. Conto la rovescia. In teoria bisogna stare belli camperati, eh. Lanciamo il co... Ah, se io ne lancio uno si distrugge l'altro. Dannazione. Vai, vai, vai. Oh, non mi morite ora. Non mi morite ora. Tra l'altro io ho sei gemme su quello che è di più. Cinque secondi. Quattro. Tre. Due. Dai, è fatta. Per forza. Per forza. Per forza. Oh, due partite belle veloci. Proprio. Un migliore. Yes. Yes. Guarda anche quelli come sono tutti viola. Di là c'è il colore viola che domina. E noi abbiamo vinto anche queste. Siamo al grado sei. Boom. Che è pochissimo. Però siamo al grado sei. E sessanta cosi di totale. Facciamo esci. Ci sono novità? Sì, per forza. Quanta roba ho sbloccato? Una cosa. Cassa enorme. Allora facciamo così. Devo fare ancora settanta punti. E poi ci sblocchiamo due casse. Quindi mi faccio un'altra partita. Sperando di fare settanta punti. Così ci sblocchiamo due casse. In caso non ne faccio settanta. Ne faccio un'altra che non mi faccio vedere. Vabbè, comunque cerchiamo di sbloccare le due casse. Magari ci troviamo qualcuno di interessante. Credo proprio di no. Questa è la modalità, sì, nella quale sono da solo. Intanto questi questi stanno già picchiando come dei fabbri. Perfetto. Tiragli le botte. Tiragli le botte. Perfetto. Sbem. Guarda che sberla è la casse. Che poi queste casse che ti danno sti cosi. Cosa servono? Cioè ridarti la vita? Non lo so. Non lo sapremo mai. Nel dubbio ci siano già fatti una kill e ne mancano sei. Ah, che carino. Ho messo anche la chat qua sulla destra. Bravi, bravi. Ma dove sono tutti i cattivi? Sono tutti i camperelli? Sì. Cioè ce n'è uno qui. Bello cattivo. Vai picchia 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 picchia. Picca 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 picca. Dai, si è nettamente più forti però è rischioso. Voglio un attimino camperare. In realtà, secondo me, ogni operatore. Sì, li chiameremo operatori. È utile in varie battaglie. In varie modalità, pardon. Tipo questa qui. In sta modalità. Non è che sia la cosa più utile del mondo. Però intanto li ho ammazzati tutti. Perfetto. Scontro finale. Dove sei? Dove sei? Ti vengo a prendere. Di cattiveria. E la vinciamo. Forse. Uh, il megacoso ciccioso. Guardalo lì il tipo. Boom. Boom. Dammi il coso ciccioso. Perfetto. Per te è la fine. Biatch. Per te è la fine. Biatch. Biatch. Dai biatch. È la fine. Sì, è la fine. Però non posso hittare. Dai, fammi colpire. Fammi colpire. Ho finito colpire. L'ultimo muore. L'ultimo muore. Abbiamo vinto. Cioè, quante vittorie stiamo facendo oggi? Tre. In realtà tre. Proprio di numero esattamente tre. Però dieci trofei e quanti gettoni? Un botto. Per forza un botto. Mm, mm. Me ne mancano due. Non ci credo. No. Due? O tre? Una roba del genere. Dai, me ne mancano due. Vabbè. Allora, facciamo così. Mi faccio un'altra partita. Mi faccio il taglio. E poi ci vediamo. All'apertura di quelle due mega casse. Che in realtà una mi sembra che sia mega e l'altra no. Comunque ci vediamo dopo. Ok, allora, partita fatta. Ci apriamo le casse. Prima questa. O devo per forza aprire quella? Ok, sono arrivato terzo. Vabbè, che schifo. Però siamo sul podio. E non troveremo chiaramente niente. Perché mi sa che c'è il fatto. Se trovi i punti energia non trovi il brawler. Io spero il brawler. Ma non penso proprio. No. Non penso proprio. Però dai, punti energia per Jesse che ci sta. Bombardino carino. E Shelly. Anche quella mi piace molto. Perfetto. Non abbiamo trovato chiaramente niente. Però va bene così. Spegniamo 30 gemme a caso? Tanto non mi servono. Signori, voi non fate la casa la stupidata più grande della storia. Però io lo faccio per il contenuto. E quindi ci apriamo un'altra cassa enorme. Nella quale non troviamo assolutamente niente. Tanto io le gemme non le utilizzo. Non sto a farle più di tanto. Voi che di sicuro siete livelli più avanti. E ce le avete tutte da parte. Non fate il mio stesso errore. Quindi signori. Qua c'è anche una cosa della missione. Che ho completato? No. Non ho fatto niente. Non lo so. Era un po' che non giocavamo a Brawl Stars. Spero che vi sia piaciuto questo video velocino. Abbiamo ottenuto tra l'altro tre vittorie. Se ci dovesse essere qualche evento in particolare fatemelo sapere. In caso posso fare qualche partita con voi. Vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani. Al solito ora vero due e un quarto. Per questo periodo estivo. Con un nuovo video. Ciao. Bravo Master. Tre vittorie. Boom.